Cattive notizie per gli utenti del trasporto pubblico locale. Dopo il ritorno del tram della linea 1 salutato in pompa magna dall'amministrazione comunale qualche giorno fa, bisogna fare i conti subito con uno stop. Gli otto sirio rimasti per quattro anni in deposito, pur essendo stati revisionati, hanno avuto un problema. Sulla linea tramviare, appena rimessa in pista sulla tratta a municipio Poggio Reale, ieri ci sono stati i primi intoppi. Quattro i tram in esercizio, ma dopo l'ora di pranzo due si sono guastati e sono rientrati in deposito e gli altri sono andati a rilento. Alla fine, in serata, ne era rimasto solo uno a coprire il turno fino a mezzanotte perché un ferro tramviere si è ammalato. Insomma, se non fosse tutto vero, ci sarebbe solo da farsi una grassa risata. Per fortuna però non ha provocato grossi problemi all'utenza lo sciopero proclamato oggi dai sindacati. Regolarmente in servizio la linea 1 della metropolitana, la funnicolare centrale, quella di Montesanto e Mergellina. La funnicolare di Chiaia effettua solo corse dirette. A proclamare lo stop l'USB, l'ORSA e la FISA con file, quest'ultima sollevando la questione sicurezza bloccando l'uscita di alcuni mezzi dal deposito di via delle Puglie. Conto alla rovescia per il ripristino dell'intera tratta della linea 1 della metro, limitata ora dai Colle Aminei a Garibaldi dopo l'incidente a Piscinola del 14 gennaio scorso. Questa è la settimana decisiva. Dopo l'ok da parte della procura al dissequestro devono essere effettuati i controlli da parte dei tecnici così come disposto dal magistrato. Poi ci sarà il via libera. Napoli ha reso omaggio a Luisa Conte, indimenticabile protagonista del teatro italiano, scomparsa il 30 gennaio del 1994, dedicandole il largo tra via dei Mille e via Filangiri, a pochissima distanza dal suo teatro, il San Nazaro, dove per decenni ha solcato le scene con numerose commedie, capisaldi della tradizione teatrale napoletana. Ascoltiamo Lara Sansone, nipote di Luisa Conte ed erede della sua tradizione teatrale. Una cosa giusta, ricordare un artista che si è spesa tanto per la città di Napoli, che ha amato Napoli e ha preferito Napoli a qualsiasi giro nazionale. Le persone venivano da nonna a teatro, a San Nazaro, come in pellegrinaggio, per cui grazie sindaco perché ci hai dato questa opportunità. Siamo onorati e anche molto emozionati. A ricordare Luisa Conte, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Il giusto valore a donne e uomini che hanno reso importante il nome di Napoli nel mondo. Luisa Conte lo meritava per quello che ha fatto sin da giovane per il teatro, per il teatro napoletano, è stata molto amata e quindi credo che sia una giornata importante per Napoli, per le donne di Napoli e per la cultura di Napoli. Il patrimonio culturale può essere un driver di sviluppo sostenibile e crescita competitiva per le città storiche? Il Consiglio d'Europa ci crede e lo ha sancito nella Convenzione Quadro sul valore dell'eredità culturale per la società in corso di ratifica alla Camera per diventare una legge dello Stato. Anche il CNR ci crede ed è in prima linea con l'Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo di Napoli, diretto da Alfonso Morvillo con il gruppo di ricerca azione coordinato da Massimo Clemente che ascoltiamo. Si sovrappongono con un gioco di parole il faro del nostro molo San Vincenzo su cui l'Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo l'IRIS è impegnato da tempo, una battaglia civile ma anche oggetto di una ricerca sulla valorizzazione di un bene comune e un bene culturale della nostra città e si incrocia con la Convenzione di Faro, la città del Portogallo in cui è stata firmata la Convenzione sulla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il ruolo delle comunità. Nella nostra città è fortemente presente una dinamica di attivazione sociale, di valorizzazione dei beni culturali attraverso le comunità. Attivare le comunità, mettere in rete i soggetti pubblici e privati, valorizzare l'eredità culturale materiale e immateriale, queste sono le sfide. Quali sono invece le azioni che la Regione intende mettere in campo per valorizzare il patrimonio culturale? Ne parla l'assessore regionale all'urbanistica e governo del territorio Bruno Di Scepolo. La Regione sta lavorando su vari piani, di sicuro stiamo lavorando per un tema che è intimamente connesso con quello della valorizzazione dei patrimoni e delle eredità culturali che è quella della rigenerazione territoriale urbana. Lo stiamo facendo attraverso un disegno di legge che in questo momento al vaglio del Consiglio, nel quale sia l'aspetto della riduzione del consumo di suolo che della rigenerazione urbana assume un valore centrale sotto il profilo appunto del recupero, della riutilizzazione, della valorizzazione dei territori, dei luoghi e di tutto ciò che costituisce un patrimonio. A sottolineare l'importanza del CNR anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Il CNR è un centro di eccellenza della ricerca e questo è uno dei temi di ricerca più importanti per le comunità, valorizzazione del patrimonio culturale e del patrimonio immobiliare in generale. E Napoli devo dire in prima linea in questo, dai beni comuni a una visione non dismissiva del patrimonio ma valorizzativa e il coinvolgimento delle comunità, dei cittadini, degli enti per individuare anche risorse economiche ma mettendo al centro la persona.